Diversi sono stati gli interventi di soccorso e di polizia marittima durante il fine settimana. I più significativi a Pesaro, nella tarda mattinata del 16 agosto, dove sono stati soccorsi due diportisti in prossimità dello specchio acqueo antistante alla spiaggia di Baia Flaminia e che, a causa dell'improvvisa perturbazione meteorologica, non riuscivano più a guadagnare la riva. Il tempestivo intervento della motovedetta di Pesaro, attivato da alcuni bagnanti tramite il numero blu di emergenza, che è 15.30, ha contribuito alla messa in sicurezza dell'unità e del suo equipaggio. Ieri mattina, invece, domenica 17 agosto, nel tratto di mare antistante Torrette di Fano, un attante proveniente da Fano e diretto a Marotta, è stato soccorso intorno alle 11, dopo essersi trovato in difficoltà a causa del forte vento, tanto da capovolgersi ripetutamente. Per questo è stato necessario un intervento del Nucleo di Protezione Civile del Circolo Velico Torrette, coordinato dalla Guardia Costiera di Fano.